Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qua per prepararci insieme con il Get Ready With Me di questo mese o di quando è capitato e così io sono già pronta per il video successivo, ovviamente ora vedete l'effetto finale dei pastrocchi che mi sono messa in faccia la chiacchierata di oggi in realtà è un po' spinosetta, è un po' gossip, nel senso che ispirata da un video di Andrea Belfiori che ovviamente vi linko giù nell'info box, lui ha fatto una disamina un po' generale di tutti i punti mi sarebbe piaciuto un po' affrontare questioni che riguardano cosa non vi piace a voi utenti di BookTube, ovviamente tendenzialmente BookTube Italia ci sono cose che sono emerse in una maniera secondo me molto simile anche al video di Andrea, un po' molto ripetiva, si vede che è una cosa molto sentita altre invece che sono cose che sono più disparate, meno frequenti, più frazionate, insomma ci sono tantissimi pareri, tantissime cose di cui parlare e quindi siamo qui per farlo, l'idea di questo video è un po' quella di prendere una serie di commenti, isolarli ovviamente quelli che ho ricevuto e poi cercare di darvi un parere sia dal punto di vista dell'utente, del lettore sia dal punto di vista del BookTuber perché ci sono due facce sempre della stessa medaglia io non penso che una sola visione sia quella corretta, anzi io trovo molto giusto fare autocritica però allo stesso tempo anche l'utente un pochino secondo me deve trovarsi di fronte all'autocritica in quanto utente so che è un discorso controverso e anche un po' complicato però spero che magari rispondendo alle varie domande vi sia tutto più chiaro ecco io spero che insomma il video di oggi vi risulti interessante vi ricordo che giù nell'infobox trovate tutti i miei link ad Amazon, a Coffee se mi volete offrire un caffè in segno di sostegno e qualsivoglia link ai miei social se mi volete seguire al di fuori di Youtube e direi che è arrivato il momento di cominciare e torniamo indietro allora eccoci qua e adesso come sempre andiamo a non vedere più nulla per i prossimi minuti e vi spiego velocemente cosa ho in mente di fare così poi inizio a leggere i vari commenti e a commentarli un po' insieme a voi per fare un po' un discorso completo allora innanzitutto come sempre mi metto un po' di olio illuminante secco di Mulac così insomma la mia pelle che sta morendo evidentemente è schifosissima in questo periodo e si riprende e cerco di non far assorbire tutto non ho voglia di mettere nessun fondotinta perché non lo so mi dà fastidio quindi metto qualche a modi BB cream il correttore di Fenty cioè il match sticks in realtà di Fenty che ce l'ho che è quasi finito poverino l'ho usato fino all'ultimo e questa sarà la mia base perché non ho veramente voglia di piombarmi di cose detto ciò invece passerei all'argomento che fondamentalmente penso interessi a chi è su questo video ovvero commentare un po' insieme quello che voi pensate di BookTube perché l'ho chiesto su Instagram e sono un po' curiosa perché le risposte sono interessanti allora uno dei commenti più presenti riguarda le recensioni recensioni poco approfondite, recensioni molto uguali, recensioni trattate alla stessa maniera non mi piacciono le recensioni dove si racconta solo quanto mi è piaciuto il personaggio cosa non mi è piaciuto del personaggio bla bla senza andare a fondo eccetera comunque a quanto pare uno dei problemi principali secondo tantissimi su YouTube è il modo in cui vengono fatte le recensioni a questo punto però a me viene da fare un'osservazione cioè nel senso che chiunque parla di libri online tendenzialmente non è che è obbligato ad avere qualsiasi tipo di, chiamiamolo, competenza nel fare le recensioni in modo di fare le recensioni quindi ognuno magari, in quanto lettore, ogni BookTuber è fondamentalmente un lettore ha iniziato a portare le proprie impressioni sul libro riguardo a ciò che pensa sui libri che poi alcune risultano molto uguali quello posso comprenderlo anzi trovo che uno dei motivi per cui io parto il canale era che non vedevo recensioni che mi piacessero granché in generale, non parlo di persone specifiche però sui libri che a me interessavano non trovavo grande varietà di opinioni però allo stesso tempo è vero anche che non tutti ricercano la stessa profondità quando si parla di un libro ad esempio, ve la rigiro la domanda a me spesso viene detto che do troppe informazioni sul libro e che questo condiziona un po' il parere che viene un po' alle persone sulla lettura che secondo me è un po' una motivazione strana a mio parere perché, non so come dire, fondamentalmente il mio parere non è un parere universale come non lo è quello di nessuno che sta su YouTube quindi qual è la via giusta? cioè per ognuno ce n'è una diversa ci sono persone che magari vogliono sapere proprio se quello può essere il genere di libro che fa per loro tramite una recensione altri invece che vogliono risposte molto più dettagliate quindi questo sarà il primo delle numerose volte in cui lo ripeterò è tendenzialmente cercate persone che hanno gusti simili ai vostri o che trasmettono informazioni come voi le preferite madonna che casino che ho già fatto perfetto ok e quindi insomma invito un po' sempre a cercare quelle persone da seguire e da continuare a seguire che parlano dei libri nella maniera in cui voi trovate più consona per quelli che sono i vostri gusti magari sono canali più piccoli magari non sono tutte le persone che conoscete dovete un po' arrivarci eccetera eccetera però pensate anche a un approccio un po' più propositivo da questo lato qui cioè nel senso penso che ognuno col fatto che non devi avere una laurea per entrare su youtube per fortuna altrimenti io sarei fuori quantomeno ognuno penso che possa parlare dei libri nella maniera in cui lo ritiene più valido che poi questo abbia dei risvolti non sempre positivi per tutti gli utenti lo posso comprendere benissimo però diciamo che io sono sempre più per capire che noi abbiamo una grande responsabilità sia come utenti che come lettori cioè noi possiamo trovare dentro di noi dopo aver capito molto bene cosa ci piace cosa non ci piace cioè non è un processo semplice che cosa sono le cose che più ci colpiscono che più ci piacciono e quindi in base a quello cerchiamo anche persone simili a noi quindi il primo invito e questo è un invito pure semplice è quello di cercare persone che parlano a voi dei vostri gusti del modo in cui voi intendete una recensione fatta bene ci sono sicuramente persone che secondo voi hanno un modo di fare che vi trasmette di più chiaramente poi insomma l'altra cosa che vi suggerisco è provare a chiedere anche quando magari seguite un booktuber che a vostro giudizio non fa le recensioni come vorreste fare voi ecco qualche domanda in più sotto le recensioni io trovo che questo sia il modo forse più corretto e migliore per esplorare insieme alcune tematiche anche un po' diciamo che potrebbero generare conflitto ecco io penso che chiunque sia disposto magari a elaborare un po' di più il pensiero per dire se secondo voi la recensione non è completa perché è un'esposizione della trama mi è piaciuto questo bella la coppia ok chiedete di più chiedete più voi che cosa vorreste sapere su un determinato libro ovviamente sempre in maniera gentile perché se no non è corretto questa cosa però provateci cioè insomma date voi degli spunti che magari qualsiasi booktuber può cogliere e importare nei propri video per le prossime recensioni se vedete che voi avete bisogno di più informazioni provate a chiederle cioè chiedere non fa mai male allora un altro commento che anche questo è abbastanza frequente è quello sulla mancata trasparenza ovvero ricevere il libro parlarne in un book haul in toni entusiastici poi magari non leggerlo e rivenderlo tra l'altro ricordo a tutti i miei colleghi questo non mi sfuggirà mai che rivendere i libri inviati dalle case editrici non è legale non è corretto e per quanto io sia convinta che ci vogliano rapporti e collaborazioni strutturate meglio rivendere i libri che vi arrivano gratis dalle case editrici non è legale ricordatevi che vi state guadagnando qualcosa non avendo speso un euro io personalmente non lo trovo corretto ognuno poi è libero di agire per coscienza so che non tutti condividono questa visione delle cose però personalmente non lo trovo corretto detto ciò però chiaramente voi utenti se vedete che i booktuber rivendono cose che secondo voi non dovrebbero rivendere ok segnalateglielo cioè parlatene ma questo non ti era arrivato non ne avevi parlato in un book haul cioè comunque anche gli utenti possono essere un po' più attenti poi è ovvio che raga la vita online delle persone non deve essere la pesantezza continua e costante allo stesso tempo quando si lamenta una mancata trasparenza cosa che io comunque posso anche comprendere perché dal punto di vista di un utente non avere chiarezza secondo me non è mai corretto ed è uno dei motivi per cui internet può essere una grande forma di trasparenza e allo stesso tempo non esserla quindi il mio consiglio intanto per i booktuber è evitare di farlo perché ripeto non è corretto e non è nemmeno legale e dall'altro lato per gli utenti se vedete che questo libro non viene letto appare in un book haul magari vi può ispirare io lo capisco però finché non è stato letto sono impressioni non sono dati certificati poi capisco che l'opinione personale su un libro sia sempre qualcosa di difficile cioè quando l'opinione personale di una persona che sia completa e abbia letto il libro che non lo sia ecco influenza magari un vostro acquisto sentite parlare di un libro questo vi ispira e lo comprate poi a voi non piace magari non è che è colpa del booktuber chiariamo perché ovviamente ognuno di noi ha gusti e modi di fare differenti magari a noi piacciono cose che voi leggete e trovate aberranti ma è capitato un sacco di volte i miei libri preferiti a parte sei di Corve perché vi vengo a cercare a casa non è che per forza devono piacervi perché non funziona così la letteratura non è una scienza esatta non è che se tu ci becchi con una con una recensione dopo è scritta nella pietra non funziona così cioè quindi insomma da un lato cercate voi di capire se ciò che viene suggerito ciò che viene raccontato ciò che viene recensito può fare al caso vostro quindi voi cioè siete i primi che devono fare da filtro con tutte le informazioni che vi vengono date dall'altro lato ribadisco che non trovo mai corretto rivendere i libri regalateli alla biblioteca lo so che ci guadagnate bene ma regalateli alla biblioteca che ne hanno bisogno di titoli nuovi altro grande evergreen che emerge da tutti i commenti che ho ricevuto è la questione del video poco originali cioè video ripetitivi stessi format da anni e mancanza di originalità negli spunti dei contenuti allora vediamola da entrambe le prospettive sia da booktuber che da utente allora io ripeto uno dei motivi per cui sono approdata qua è che non c'erano le cose che piacevano a me o che volevo io o comunque io ho sentito una grande mancanza che è stata quella di Marco Locatelli nel senso che era uno dei miei canali preferiti che quando ho smesso di fare video avevo un po' un vuoto e quindi ho detto invece che stare lì e lamentarmi mi metto io a fare le cose questo è stato proprio il motivo per cui io ho aperto il canale però ovviamente stiamo parlando di me che quindi non doveva essere un video su di me perché ok il mio egocentrismo però va bene quello che volevo dire comunque con questa introduzione è che chiaramente capisco questa necessità per me il fatto di non trovare tanti format interessanti e creativi e non è che vuol dire tutti fare le stesse cose perché magari di alcune persone io seguo format molto classici perché il modo in cui trattano queste rubriche per me è valido è molto significativo non so nemmeno cosa sto facendo sugli occhi in tutto ciò sto provando ad abbozzare cose e comunque insomma alcune persone a me piacciono anche nei loro momenti più classici perché quelli li fanno bene poi ci sono stati altri casi in cui ci sono invece format che a me non interessano io per dire non ce l'ho con i book haul perché per me il book haul è lecito come video anzi è il più visualizzato su youtube io penso sempre ma se un giorno mi mettessi a farlo scrivendo lo faccio solo per i soldi sarei anche molto onesta nei vostri confronti perché comunque sono video molto molto visti e questo comunque è colpa dell'utenza non è colpa del booktuber il booktuber certo che lo fa è la cosa che va meglio e vorrei anche vedere però allo stesso tempo e allo stesso tempo però io risento molto di questa mancanza di varietà dei contenuti infatti appena i miei colleghi alcuni dei miei colleghi propongono un format nuovo tendenzialmente lo guardo perché penso proprio che oggettivamente siano le cose che più mi interessa guardare e alcuni di questi contenuti per me sono i più interessanti proprio perché vedo mettere in pratica vedo mettere giù ai miei colleghi qualcosa di originale e per me è sempre interessante quindi tento di vederli quanto meno ecco capisco però la difficoltà nel farli perché a volte non vengono recepiti subito bene dal pubblico e questo è complesso ragazzi a livello di di chi sta da questa parte è sempre molto complesso oltre a un discorso che affrontiamo fra un attimo però da questa parte quando si propone un qualcosa di nuovo un qualcosa che non si era mai sperimentato non sempre va subito bene e magari sono contenuti per i quali hai speso tanto tempo e tante energie e questo non si rivede nelle visualizzazioni magari nell'aver portato insomma un contenuto nuovo nei commenti non ci sono reazioni destabilizza un po' gli utenti insomma può capitare anche perché portare format impegnativi nuovi di approfondimento ragazzi ve lo dicevo una che ci mette un mese a scrivere un video tre settimane a scrivere un video è complesso anche perché tutti noi abbiamo la nostra vita fuori da da booktube no? cioè tra lavoro studio qualsiasi altra cosa uno faccia insomma diciamo che non tutti hanno il tempo poi effettivo per scrivere questi video molto lunghi o scrivere video più lunghi e poi elaborarli comunque insomma a parte questo in generale il problema proprio di portare dei contenuti nuovi trovare anche la chiave per farli girare richiede tanto tempo tante energie e non sempre dà dei risultati perché se fare il book haul comunque ti premia di più che fare il video di approfondimento nuovo o una rubrichetta nuova che magari hai studiato per un po' però ci metti ore e ore di montaggio poi magari non lo so insomma sono tutte complicazioni che comunque vanno tenute conto anche dall'altra parte poi sinceramente il solito invito non vi piace il format ripetitivo non guardatelo e io ad esempio ripeto sempre non è che ce l'ho con i book haul è che li trovo contenuti che a me non parlano io sono una persona che cerca l'approfondimento tendenzialmente o cerca l'intrattenimento i book haul non mi intrattengono né mi approfondiscono quindi io parlo per me ma non è che sono il male il book haul anzi ripeto però capisco che fare un book haul è un video dove prendi una pila di volumi e ne parli a rota non hai neanche bisogno di approfondire racconti un libro per le informazioni che sai o perché l'hai scelto ma non ti richiede tanto tempo e invece fare dei contenuti di approfondimento ti richiede molto tempo l'approfondimento proprio anche dal punto di vista delle fonti non solo della scrittura quindi ci sono tutta una serie di complicazioni e poi capire anche quanta durata e quanta longevità può avere una nuova rubrica trovare sempre spunti per una nuova rubrica insomma è complesso poi perché io vedo le nuove rubriche come approfondimenti perché non sono una persona che si dedica all'intrattenimento però allo stesso tempo per me è complesso riuscire a a trovare delle idee anzi magari vi do uno spunto se sapete che un determinato booktuber una determinata booktuber sono molto bravi in un ambito che ne so sono più bravi a intrattenere sono bravi nel fare recensioni sono bravi nel fare contenuti leggeri sono bravi nel fare approfondimento proponetegli qualcosa anzi cercate di sollecitare a attivarsi su alcune nuove proposte per me sarebbe molto interessante vedere anche una risposta ripeto sempre cordiale sempre gentile comunque uno scambio ci sono persone da entrambi i lati dello schermo quindi per me può essere interessante anche provare a approcciarsi in questo modo allora non riesco a capire nemmeno come mi sta venendo il trucco ma ora iniziamo da questo lato e vado avanti anche con altri spunti che vengono fuori un po' da questa indagine sui miei 18.000 seguaci quindi insomma sono un campione abbastanza alto e non è che mi hanno risposto tutti però c'è un consistente numero il senso di gruppo chiuso il fatto che siano tutti siamo ci metto anch'io siamo tutti un po' separati in gruppetti ecco io questa cosa ragazzi ve la dico in maniera cercando di sembrare il meno brutale possibile però come nella vita reale cioè pensare che c'è un gruppo grande tutto insieme tutto unito e coeso sempre mi fa sorridere perché nella vita reale voi siete amici di tutte le persone che avete incontrato nella vostra vita di tutti i vostri colleghi e fate balotta con tutti loro io non credo youtube è esattamente la stessa cosa c'è uno specchio tranquillamente realistico della vita poi reale non c'è né di più né di meno che nel mondo di fuori io poi vabbè tendenzialmente vado d'accordo più o meno con tutti e cerco di essere ben disposta nei confronti di tutti però è ovvio che anche io i miei limiti non sono sempre d'accordo con i comportamenti di tutti né d'accordo sempre con ciò che viene detto ciò che viene fatto e purtroppo essendo gemelli e cagacazzo io lo faccio anche notare però preferisco farlo notare in prima persona quindi infatti successi disastri però ragazzi come nella vita reale cioè non potete pretendere che non ci sia una chiusura in gruppetti perché così sempre cioè alla fine sono gruppi di amici gruppi di persone che hanno un rapporto tra di loro e penso sia comprensibile non ci trovo nulla di così fuori dal mondo che poi qualcuno non vi piaccia e questi gruppi non tutti li appreziate oppure o pensate che magari qualcuno potrebbe andare più d'accordo con l'altro per l'amore del cielo però ripeto è come in ogni ambito della vita privata cioè non possiamo sapere cosa c'è dietro le quinte non possiamo sapere i vari rapporti tra le persone i rapporti tra le persone sono complicati non giriamoci attorno e questo è esattamente uno specchio di qualsiasi altro nicchia come può essere la vostra nicchia del vostro posto di lavoro la nicchia della vostra università la vostra classe cioè esattamente la stessa cosa e io non ho mai trovato persone che vadano d'accordo imprescindibilmente con tutti io non sono tra quelli però ho generalmente un buon rapporto con quasi tutti è normale cioè è normale penserei che fosse assurdo e anche molto finto il contrario detto in maniera sincera che poi ci siano battaglie tra le varie bande come in West Side Story cioè su questo sono la prima che è infastidita anche perché il problema rimane che alla fine le faide nascono sempre da questioni di simpatia antipatia non tanto da le vere tematiche che si mettono in mezzo oppure di come parli per un mio caso sempre solo per come parlo di alcuni libri che a quanto pare sono intoccabili o erano intoccabili o qualcosa di vagamente simile negli occhi no neanche per sbaglio ok e quindi niente questo è un po' il mio pensiero sul tema gruppetti perché il tema gruppetti per me se pone allora invece questa è una critica secondo me in generale di youtube non tanto di booktube perché youtube è molto raro comunque video che pubblicizzano cose senza dirlo in maniera esplicita cioè senza essere trasparenti adesso è raro che ci siano delle partnership sponsorizzate e pubblicizzate su booktube questo ve lo dico perché tanto l'editoria non mette soldi l'editoria non c'è un euro quando li mette sono pochi e vabbè e devo dire che questo chiaramente è una critica che trovo molto giusta nel senso che se ci sono partnership pubblicizzate e se ci sono spazi pubblicizzati comprati ovvero un video una story quello che è bisogna dirlo bisogna dirlo sempre anche se si riceve un libro e lo si fa vedere su questo io sono molto molto agguerrita perché lavorando in pubblicità per me l'etica della pubblicità è qualcosa che conta ed è rilevante al di là di tutto ciò che si può dire pensare anche se sono 20 euro anche se sono 5 euro bisogna sempre 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 dire che è una partnership anche quando arriva qualcosa quando vi arriva un libro dire che l'ha mandato la casa editrice io non ci trovo niente di male io lo faccio anche nei video ringrazio la casa editrice che me l'ha mandato se mi è piaciuto bene se non mi è piaciuto amen però dirlo secondo me è anche una questione di chiarezza e di giustizia perché comunque gli utenti non dico pensare che sia anche un'opinione comprata però ricordatevi sempre che quando c'è un prodotto non pubblicizzato in qualsiasi contenuto video foto quello che facciamo chiaramente dall'altra parte l'utente pensa che siano totalmente le nostre opinioni dall'altro lato quando c'è di mezzo una sponsorizzazione l'utente cambia la percezione della cosa e magari non che pensa che sia tutto falso assolutamente io penso che chi promuove solo cose che trova vicine trova corrette e trova giuste magari le testa le prove io ho fatto così nelle poche partnership che ho avuto se si tratta di libri magari partecipare a iniziative eventi eccetera io non sono d'accordo sulle recensioni sponsorizzate ma quello è un altro paio di mani che non ci interessa non è questa la sede detto ciò io trovo corretta e legittima la richiesta perché dal punto di vista dell'utente la percezione è diversa la percezione è sempre diversa cioè ve lo dico perché comunque in ambito pubblicitario si è istituita addirittura un'associazione che possa regolare la trasparenza dei contenuti il ministero è ancora un po' in alto mare però le regole sono chiare e quando c'è la sponsorizzazione va sempre 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 segnalato anche quando sono degli invi gratuiti più corretto di così più facile di così anche perché cioè questo chiaramente più rivolto ai miei colleghi nel momento in cui manca il insomma l'esplicitazione di questa cosa per me cosa vi cambia cosa cosa pensate che possa non capisco vabbè però invito molto semplice tutti a chiaramente esplicitare le partnership anche perché se no io vi segnalo questo ve lo dico anche perché se no io segnalo ve lo dico che è anche perché insomma se qualcuno vi segnala potete passare dei guai allora poi c'è tutta una categoria che ha qualche problema con categorie di video tipo i vlog gli unboxing i book haul insomma si va proprio su una categoria di video che più o meno indiscriminatamente ci sono persone che non amano gli unboxing ci sono persone che non amano i vlog ci sono persone che non amano altri tipi di contenuti video book haul eccetera eccetera allora io come vi dicevo prima a me i book haul non piacciono perché da utente non li guardo ma cosa faccio? non li guardo non è che li demonizzo cioè a me non interessano ma è normale che le persone li facciano e i vlog anche io non sono una grande fan dei vlog ma mi sono divertita un sacco a girare i miei in occasioni ben precise perché per qualcuno può diventare rilevante interessante gli unboxing a volte sono molto utili e molto interessanti quando ci sono cose su cui vogliamo insomma avere del insomma che ci piace mostrare agli altri pensiamo che possa essere un contenuto di intrattenimento il mio suggerimento come sempre non vi piacciono gli unboxing non vi piacciono i book haul non vi piacciono i vlog non guardateli cioè guardate altri contenuti io vi racconto un po' la mia esperienza per provare un po' a ribaltare alcune prospettive e adesso mi tiro su perché mi sto afflosciando ci sono creators cioè ci sono booktuber dei quali io non guardo tutti i video perché magari di alcuni mi piace moltissimo come fanno le recensioni poi però magari su altri contenuti li metti in sottofondo e non sono molto interessata di altri invece l'esatto contrario magari le recensioni non mi colpiscono particolarmente ma video di intrattenimento mi piacciono tantissimo perché io non saprei farli così bene oppure perché sono più adatti e magari non se ne rendono conto ecco quindi cioè ogni persona ha davvero tante peculiarità tante cose in cui può essere bravo e ha del potenziale cioè anche io non è che so faccio tutto bene anzi io ho fatto un sacco di porcate su questo canale comunque tutto ciò mi devo truccare sinceramente a me viene sempre da pensare che ad ognuno il suo cioè seguite provate a esplorare un po' i canali non tutti fanno bene tutto e secondo me voi siete gli unici che potete decretare cosa vi piace di un creator e seguite quei canali quando fanno quei contenuti lì se non vi piacciono gli altri passate oltre non guardateli oppure date degli altri spunti magari può rivelarsi utile poi andiamo su una serie di altri commenti tra cui sembra che oltre all'OIA non si parli di fantasy in maniera completa approfondita posso capirlo calcolate che l'OIA è comunque il genere che più abbraccia il pubblico di youtube quindi posso anche capire che moltissimi si siano concentrati su quello anche perché un po' per ragioni anagrafiche un po' per le letture che affrontano e che amano un po' anche per gli utenti perché fondamentalmente la maggioranza degli utenti su youtube è under under 25 quindi ci sta che parli soprattutto di quel genere lì poi posso capire e anzi mi ci metto anche io mi do le mie colpe del motivo per cui è nato il fantasy talks però immagino che ci siano tantissime persone affezionate al fantasy per adulti che invece vorrebbero sentire parlare di alcuni titoli di questo genere ecco anche qui però un invito sempre perché io mi rendo conto avete perfettamente ragione che sia meno presente e meno popolare anche però probabilmente quando si parla di un certo tipo di fantasy per adulti poi si fatica a trovare il pubblico quindi è un po' un gatto che si morde la coda no? poi dipende sempre dalle tue letture chiaramente però il mio invito è sempre se vedete che qualcosa manca sui canali degli altri proponete proponetevi voi anche cioè per me se siete dei lettori di fantasy per adulti e vedete che non c'è spazio su booktube italia in questo momento che se ne occupa fatelo voi cioè a me piacerebbe un sacco che fosse questa la mentalità vedo che una cosa manca mi ci metto io a farla perché magari sento di avere una competenza è questo che dovrebbe essere lo spirito il contributo perché la community più si allarga più ha contributi diversi per me questo dovrebbe essere lo spirito un altro commento e questo forse è il commento a cui risponderò più male in tutto questo video è che non vengono valorizzati a sufficienza gli autori italiani cerco sempre di essere molto corretta in queste risposte che sto dicendo però una cosa mi è salta all'occhio cioè è compito dei booktuber valorizzare gli autori italiani per me no non è compito del booktuber innanzitutto approfondire dare spazio agli autori italiani se non sono tra le letture che si fanno normalmente allo stesso tempo a me un pochino di questa cosa non si parla di questo non si parla di questo sembra sempre che ci sia come anche il commento di prima ci sia questa tendenza a decidere un po' le letture i gusti e di cosa dovrebbero parlare i booktuber ecco non sono molto d'accordo su questa tendenza a me non verrebbe mai da dire a una persona perché leggi quello leggi un'altra roba perché non leggi più questo perché non lo trovo né carino né giusto perché innanzitutto già c'è una fatica enorme nel trovare cose da fare cose da dire in più lo scopo è parlare delle proprie letture dei propri gusti delle cose che ci piacciono ma in più c'è anche la questione di dovermi dire che cose devo leggere e già lo faccio nel mio tempo libero e ne ho poco e già per parlare tutta questa roba giro contenuti che mi tirano di altro tempo libero tra i due di nuovo invece che dire a i booktuber che dovrebbero parlare di autori italiani di fantasy per adulti eccetera 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 io ovviamente sto estremizzando questo commento perché mi serve per fare un ragionamento di nuovo proponetevi cioè mettetevi a farli voi quei tipi di contenuti volete parlare di autori italiani aprite un canale e parlate di autori italiani poi vediamo quanti voti prendete alle prossime elezioni tanto per citare sto dicendo cagato ovviamente no ma non era per chiaramente non è detta in maniera ironica ma io sono molto seria quando dico questa cosa perché per me se vedete che c'è qualcosa che non manca qualcosa che non vorreste vedere non c'è parlatene voi è figo per questo youtube cioè youtube è figo perché dà spazio a tutti anche a chi non ne ha in altri punti pensateci valutate questa cosa non è banale però chiaramente non potete né guidare né obbligare le persone a leggere cose che non so non li ispirano non hanno voglia di leggere o sono traghettati su altro come non è compito dei booktuber sollevare l'editoria italiana non è compito dei booktuber dare spazio agli autori italiani agli autori emergenti agli autori autopubblicati a tutta sta trafila di cose fatelo voi se vi piace il fantasy italiano se vi piacciono gli autori italiani dategli spazio fatelo voi un'altra serie di commenti invece riguarda il materialismo che su questo avrei anche da ridire sul termine utilizzato spesso però perché si accumulano tante edizioni perché si comprano 100 milioni di libri allora 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 io odio fare i conti in tasca alle persone quindi per me è un commento che parte da un presupposto che non condivido nel senso che io mi faccio un mazzo tanto per guadagnare il mio stipendio per pagare le tasse e per starci dentro tutti gli anni e io decido come spendere i miei soldi perché nessuno mi obbliga a spenderli in altro modo sono una persona che non acquisto in maniera sconsiderata e se decido di prendere sette copie di sei di corvi faccio una roba ipotetica che potete vedere alle mie spalle ne ho tutto il diritto ne ho tutto 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 il diritto anche di comprare tutto il merchandising eccetera perché sono soldi miei che io investo come preferisco cioè per me avere sette copie di sei di corvi non sono sette sono quattro è qualcosa che mi fa piacere perché mi interessa la mia serie preferita lo voglio collezionare colleziona questo potrei collezionare smalti potrei collezionare alte cianfrusaglie potrei spendere i miei soldi in un sacco di altri modi per l'amore del cielo ma penso di poterlo fare penso che nessuno possa anche lì venirmi a dire quanto devo spendere come poi altra cosa invece il materialismo vero e l'attaccamento vero alle cose ecco io non sono una persona ad esempio materialista cioè per me tutto ciò che c'è in questa stanza può sparire che non me ne fregherebbe niente tranne la macchina fotografica perché ci devo lavorare sopravviverei benissimo perché non sono legata a nulla in maniera così imprescindibile da perché tutto è funzionale a parte i libri che da lettrice mi piace collezionare detto ciò il materialismo vero è chiaramente accumulare cose in maniera senza senso cioè non è che una persona è migliore perché c'è cinque libri in libreria una non è migliore perché ne è diecimila a parte diecimila complimenti per lo spazio quindi anche in questo caso secondo me il tema è veramente ci vogliamo chiedere perché una persona accumula dei libri tra l'altro in un momento in cui accumulare libri da una spintina piccolina all'editoria butto lì eh altra cosa invece può riguardare il fatto di comprare libri non letti lasciati lì che prendono polvere quello secondo me dopo un po' insomma non è giusto però ripeto se li comprassero con i soldi di qualcun altro chiaramente mi arrabbierei se fossero soldi pubblici sarei una pantera ma sono soldi della persona che li acquista io ad esempio quando vedo che ho magari qualche libro che non ho ancora letto dopo tanto tempo prendo i regali in biblioteca prendo e li vendo cioè è normale no? anche perché magari non so come dire c'è che ha la passione per le borse c'è che ha la passione per i viaggi c'è che ha la passione per le moto c'è che la passione per un sacco di robe x però accumulare libri è visto come qualcosa di cattivo qualcosa di allora invece un altro punto secondo me interessante in questo caso è la questione della ripetitività dei libri menzionati ovvero in moltissimi si lamentano che ci sono periodi in cui ci sono magari nuove uscite dove tutti parlano dello stesso libro allora e su questo secondo me vanno fatte diverse considerazioni la prima è che adesso io poi parlo soprattutto del panorama ya e fantasy mentre nel panorama ovviamente di letteratura e narrativa generale si fa tutto un altro tipo di discorso no le case editrici in Italia non pubblicano 800.000 titoli fantasy ogni anno ne pubblicano un numero abbastanza limitato quindi è ovvio che quelle poche e mi riferisco a una due in particolare che hanno magari un'uscita importante o più di un'uscita importante in corso chiaramente cercano l'appoggio dei booktuber ma avviando una copia cercando di parlare di quel libro lì a questo punto però le considerazioni da fare sono diverse non ce la farò mai a farmi le sopracciglia parlando io trovo giusto è anche corretto dire all'ennesima volta in cui sento parlare di X non ne posso più lo trovo lecito e anzi spesso anch'io quando vedo libri che non mi interessano che ho già bollato come non mi piacerà sicuramente e ne sento parlare continuamente mi infastidirò a un certo punto però anche in questo caso bisogna valutare se il libro fa per noi se il libro non fa per noi cioè prende le stesse dimensioni di tutti gli altri libri all'interno della discussione che si può fare attorno a quello poi tutti parlano di questo a me non mi interessa bene cercate un altro tipo di contenuto cercate persone che non stanno parlando di quel libro nessuno ve lo vieta che poi di quel libro se ne parli in maniera uguale che se ne parli in una maniera che non trovate corretta io le trovo già considerazioni molto più avanzate sono già considerazioni diverse ecco però quello che io vi invito a fare è come sempre non vi piace che tutti parlino dello stesso libro passate oltre cioè nessuno vi obbliga a guardare questi contenuti non avete la pistola puntata alla tempia mi sono scordata l'eyeliner insomma ci sono veramente casi in cui tutti ci troviamo a parlare di alcune uscite molto attese alcune uscite che le case editrici cercano un pochino di spingere tutto ciò anche da questa parte è abbastanza peculiare la posizione che noi abbiamo perché da un lato ci sono quelli molto infastiditi che comprendo cioè sentire sempre 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 parlare di alcuni titoli a molte persone dà fastidio molte persone che comunque sono una minoranza statisticamente allo stesso tempo però a me capita spesso che se c'è un titolo di cui si parla tanto molte persone mi chiedono di parlarne molte persone vogliono sapere cosa io ne penso e quindi ti trovi un po' a metà fra questo sentimento di cosa faccio ne parlo non ne parlo come mi devo comportare perché se ne parlo do fastidio a qualcuno se non ne parlo un sacco di gente continuerà a chiedermi di parlarne quindi a un certo punto se il libro interessa per un qualche motivo io non ci vedo nessun problema a esplorare quantomeno la lettura poi può piacere può non piacere chiaramente sta a ogni booktuber però io non ci trovo niente di male perché spesso purtroppo soprattutto nel panorama fantasy le uscite un po' spinte dalle case editrici o comunque molto attese sono poche all'interno dell'anno quindi in realtà è più quasi una percezione il fatto che ci siano 5-6 titoli e di cui a un certo punto tutti parlano è normale perché tutti diciamo si trovano di fronte all'opportunità magari di una collaborazione e o di leggere un libro che anche gli utenti stessi vogliono vogliono conoscere vogliono sapere approfondire e poi dopo boh spero di aver cercato un attimo di sottolineare anche questo aspetto e poi in ultimo anche se non so come mettermi l'eyeliner mentre parlo quindi forse lo metto e poi dopo rispondo alla domanda c'è la questione della competenza è venuto malissimo ma sti cazzi è freddo quindi ci sta malissimo quindi devo trovare un altro rossetto prima niente alla fine metto quello di Jeffrey che è leggermente tendente al fucsia come rosso allora questione competenza bisogna sempre tenere conto che non esiste un test d'ingresso per entrare a booktube cioè parliamoci non servono competenze per condividere una passione poi alcuni commentavano che ci sono persone che si spacciano come esperti di eccetera eccetera e ok smettete di seguire quelle persone se vi accorgete che non corrisponde alla realtà e vi sentite presi in giro smettete di seguirli più o meno ci siamo direi posso anche tornare a vedere riguardo poi la questione della competenza che è una cosa che salta fuori davvero molto spesso cioè il problema è uno intanto siamo qua come lettori noi booktuber nasciamo perché condividiamo online su una piattaforma su una piattaforma di intrattenimento una nostra passione l'ho già detto 800.000 volte così e non è necessaria alcuna competenza perché per condividere ho letto un libro mi è piaciuto ve il racconto perché mi è piaciuto non serve entrare in dettagli tecnici anche perché non tutti ricercano la competenza non tutti gli utenti ricercano la competenza ci sono utenti che invece vogliono condividere fangerlare ci sono utenti invece che vogliono imparare qualcosa ci sono invece utenti che vogliono passare trascorrere il tempo in maniera leggera ecco non tutti cerchiamo le stesse cose quindi anche qua di nuovo cercate quelle persone che secondo voi corrispondono a ciò che cercate cercate competenza cercate persone che secondo voi sono competenti o comunque che portano dei contenuti che ritenete di qualità è sempre quello il discorso non c'è nulla che vi impedisca di smettere di seguire una persona di seguirne altre rispetto ad altre soprattutto se vedete che qualcosa manca questo è il mio grande invito alla community online venite sul carrozzone cioè diventate parte integrante perché è vero che da fuori è sempre molto facile giudicare è sempre molto facile dire questo non mi piace vorrei quest'altro eccetera però è molto complesso stare da questo lato di booktube perché richiede uno sforzo in termini di tempo in termini di contenuti in termini di ricerca di creatività guardate che dopo due anni per me trovare dei contenuti che non mi uccidano perché io penso solo a robe lunghissime robe super elaborate è complesso ed è difficile allo stesso tempo trovare sempre la creatività per altri tipi di video diventa complesso quindi il mio invito è davvero portate i vostri contenuti perché ce n'è bisogno evidentemente se vedete che qualcosa manca portatelo voi metteteci la faccia come ce la stiamo mettendo tutti perché comunque si può dire tutto dei booktuber bene o male quello che volete ma tutti ci mettono la faccia nell'esporre una propria idea un proprio pensiero e io questo mi sentirò sempre di difenderlo perché c'è sempre un lavoro veramente molto duro dietro e questo andrebbe un pochino un pochino elaborato dopodiché se ci sono cose che non vi piacciono io trovo sempre che proporre essere propositivi senza risultare chiaramente sgradevoli e maleducati perché questo è le basi della comunicazione umana però dialogare almeno io sono ripeto sempre molto contenta della mia community perché non so so più cose del vostro analista a volte e altre volte mi raccontate davvero e ci scambiamo informazioni anche pareri anche a volte in modo concitato ecco però l'idea è sempre quella dello scambio uno scambio che parte da un presupposto di rispetto uno dell'altro perché bisogna sempre tenere conto di quello niente io ragazzi spero che insomma questa chiacchierata mentre mi preparavo per il video successivo ovviamente vi sia piaciuta vi sia risultato interessante fatemi sapere cosa ne pensate io direi che per oggi è tutto ci sentiamo giù nei commenti sono molto curiosa di chiacchierare con voi se ci sono cose che non ho affrontato scrivetemele che ne parliamo insieme sono davvero super aperta anche a ulteriori cose che magari non ho sollevato o a pareri diversi dai miei perché io non ho la verità in tasca anche se ho sempre ragione detto ciò ci sentiamo giù nei commenti direi che ci vediamo al prossimo video ciao